ciao a tutti oggi vediamo come si crea un livello solido detto anche il livello tinta unita il livello tinta unita innanzitutto non è nient'altro che un rettangolo di un colore unico quindi una cosa molto simile al rettangolo shape layer non ha le proprietà che ha lo shape layer cioè la colorazione non può diventare una sfumatura lineare o radiale non ha la proprietà del contorno quindi è molto limitato rispetto allo shape layer però anche caratteristiche importanti in certe situazioni quindi innanzitutto incominciamo a vedere come lo si crea oggi non creiamo la composizione perché l'ho già preparata e l'ho intitolata livello solido eccola qua per creare un solido non si usa uno strumento come si fa per creare uno shape layer ma si va nel menu layer quindi andiamo nel menu layer alla voce new e solid appunto solid layer in inglese quindi attivo questa voce e non si crea automaticamente il rettangolo che dicevo prima ma si apre questa finestra che sono i settings di questo solido e qui bisogna impostare la dimensione di questo solido e il colore che ha quindi potrei io manualmente mettere alla larghezza o l'altezza oppure potrei cliccare questo bottone make comp size nel caso volessi un rettangolo precisamente grande come la composizione è una scorciatoia appunto per dare le stesse dimensioni della composizione poi l'altra cosa importante è il colore al momento io ho un colore azzurro impostato e lo lascio anche in questo caso non lo modifico do l'ok vediamo cosa succede si è creato appunto questo rettangolo azzurro nella timeline c'è questo livello che ha un nome royal blue solid al nome del colore che ho scelto e se vado nella timeline e apro il contenuto di questo solido c'è soltanto la sezione transform che contiene le classiche cinque proprietà non ci sono extra proprietà come nello shape layer adesso per fare un paragone ancora più accurato con lo shape layer aggiungerò nella timeline anche uno shape layer così vediamo proprio le differenze una per una quindi disattivo nella timeline il solido vado sulla in cima seleziono lo strumento rettangolo e faccio un doppio clic ecco ho creato uno shape layer a forma rettangolare in questo caso con il fil rosso e il contorno bianco va bene lo lasciamo così quindi vediamo lo shape layer come al suo interno sappiamo che c'è una sezione contents che sono le proprietà proprio specifiche degli shape layer al suo interno avevamo già esplorato qualche cosa c'è una sezione che riguarda la forma che ho disegnato rectangle one che al suo interno altre proprietà e poi sappiamo che qui sulla destra ce ne sono ancora altre che ho già detto che spiegherò in futuro mentre il solido non ha una sezione particolare per i solid layer è semplicemente un livello con le proprietà base e niente di più però c'è innanzitutto una differenza sostanziale che è questa quando io ho creato il solido e si è aggiunto nella timeline after effects ha creato qui nella finestra di progetto una cartella solids e dentro lì c'è proprio il livello che io sto usando qui quindi ha proprio creato la sorgente di questo livello come fosse un materiale importato da fuori mentre invece lo shape layer dopo la sua creazione esiste nella composizione nella timeline ma non ha una sorgente non c'è un file qui nella finestra di progetto legato a questo livello qua questo livello shape layer praticamente è incorporato nella composizione in cui si trova e questo fatto che abbia una sorgente fa sì che il livello solido possa essere sostituito col tasto alt da un altro materiale mentre invece lo shape layer siccome non ha un file sorgente non può essere sostituito da nient'altro però se il nostro scopo è quello di avere un rettangolo tinta unita magari da usare come sfondo in tutta la composizione certo non c'è paragone fra i due tipi di livelli è sempre meglio fare uno shape layer perché poi ha molte più possibilità di essere trasformato innanzitutto la colorazione può diventare sfumata e mentre il solid questa proprietà non ce l'ha se la volessi dovrei aggiungergli un effetto ma l'unico vantaggio che possiamo dire che il solido ha rispetto allo shape layer e che è il migliore livello che si possa usare se si vuole creare qualche cosa a partire dagli effetti detto così non è molto chiaro adesso farò un esempio io voglio creare una griglia e la voglio creare partendo da un effetto che si chiama grid griglia naturalmente questo effetto ha bisogno di essere messo all'interno di un livello ora adesso io nella timeline spengo lo shape layer quindi qui a sinistra nella timeline spengo quel simbolo occhiolino che mi fa sparire dalla vista lo shape layer adesso io sto vedendo il solido gli applico l'effetto griglia che dicevo prima quindi seleziono il solido vado negli effetti l'effetto griglia sta nella famiglia generate e l'effetto che mi interessa dicevo si chiama grid eccolo qua appena applicato questo effetto crea una griglia bianca e per vederla naturalmente è meglio avere lo sfondo anziché scacchiera bianca e grigia lo sfondo nero quindi clicco qui in basso eccola qua la griglia dicevo questo effetto appena applicato si comporta così non fa vedere più il contenuto del livello su cui è stato messo cioè il solido azzurro non si vede più al suo posto si vede il contenuto dell'effetto che è appunto questa griglia qua poi io questa griglia qui la posso modificare con i suoi parametri naturalmente posso usando queste due proprietà qui corner aumentare la larghezza o l'altezza lo spessore di quelle linee della griglia e altre cose bene vi faccio notare una cosa che se però io diminuisco la scala del solido che contiene questo effetto quindi qui sono già aperte le proprietà transform quindi diminuisco la scala vedete che il solido si è rimpicciolito e l'effetto all'interno del solido si è riempicciolito anche lui ok sembra banale ma è importantissima adesso io spengo il solido nella timeline riaccendo lo shape layer e applico lo shape layer lo stesso effetto che ho applicato al solido quindi effect generate grid anche qui subito si crea la griglia bianca il contenuto dello shape layer è sparito quindi da questo punto di vista non c'è alcuna differenza adesso però proviamo a diminuire la scala dello shape layer s diminuisco la scala lo shape layer vedete che si è rimpicciolito ma l'effetto non si riscala con lui rimane comunque della grandezza della composizione e perché succede questo il motivo per cui succede questo se andiamo nella timeline è quel pulsante qui sulla destra dei livelli quel pulsante che è formato da un cerchietto con dei raggi intorno notate che shape layer ce l'ha attivo e non lo posso neppure disattivare è attivo fisso il solido invece ce l'ha spento adesso ritorno a far vedere anche il solido questo fatto qua che il pulsante è spento mi permette di trasformare l'effetto a seconda di come io trasformo il livello cioè se rimpicciolisco il livello si rimpicciolisce anche l'effetto grazie a questo pulsante qui ma se io lo accendo avete notato spengo un attimo lo shape layer adesso si comporta come lo shape layer il solido è piccolo grande ma comunque l'effetto funziona su tutta quanta la composizione quindi qual è il vantaggio del solido che può funzionare in tutti e due i modi molto più spesso bisogno che funzioni così cioè riscalando il solido voglio che si riscala anche l'effetto però a volte magari sono interessato a che funzioni comunque in tutta quanto la composizione in ogni caso col solido ho tutte e due le opzioni con lo shape layer ne ho solo una obbligatoriamente non ho quell'altra questo è il grande vantaggio per cui prendiamo un po come una regola questo fatto quando io voglio creare in after effects qualche cosa che si crea a partire da degli effetti come ho fatto adesso per fare la griglia non dico che sia obbligatorio ma è sicuramente meglio partire da un solido e non da uno shape layer quindi ricordiamoci di questo fatto che ci tornerà sicuramente utile in futuro ultima cosa se voglio cambiare il colore che ho scelto all'inizio l'azzurro appunto non c'è la proprietà per cambiarlo devo tornare ai settings di prima e come si torna indietro ai setting di un solido si seleziona il solido si va nel menu layer solid settings e torno a quei settings di prima e qui posso cambiare il colore se voglio naturalmente qui il colore non si vede perché l'effetto ha tolto il contenuto del solido comunque nel caso volessi farlo devo tornare lì bene questo era il livello solido o solid layer quindi ciao ci vediamo alla prossima